buongiorno ragazzi benvenuti al nuovo video di minecraft questa se non sbaglio è la dodicesima forse non lo so credo dodicesima puntata di minecraft anche se in teoria doveva essere la tredicesima proprio perchè ho perso tanto per cambiare e' essere chiaro un altro episodio aggiornamenti però in questo episodio ho diversi aggiornamenti da farvi vedere da dirvi robe varie tanto come potete sentire da i cani che abbaiano scusate ho messo il suono finalmente più o meno riesce a reggerlo ecco qui dove ho trovato i cani vedrete voi vedete qua i diamanti ho trovato un sacco di diamanti sono andato in caverna e sono uscito in una foresta ghiacciata da quella parte c'era un po' di lupi ho raccolto un po' di ossa grazie agli scheletri e bla 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 cos'altro ho fatto? come avevo detto nella scorsa puntata ho fatto questo cosetto per accogliere i drop come funziona è molto semplice questo pulsante fa venire qua il kart eccolo anche se ho capito perchè si ferma lì noi possiamo tranquillamente raccogliere il drop perchè c'era un panino c'era un panino e con questo qua lo rimandiamo indietro fino al punto lì molto semplice e anche se dovevo fare una cosa un po' più complicata cioè che lui doveva vedere quando c'era uno strumento e partiva però purtroppo non si può fare perchè i comparator vedono che c'è uno strumento solo nelle ceste non nelle minecart ceste comunque io ho messo il suono ma se ci dovrebbe se ci dovesse se ci dovrebbe se ci dovrebbe essere del lag tolgo subito diciamo ehm e cosa mamma mia cade una manetta devo dire ha iniziato a cadere velocemente poi un'altra cosa come vedete vedere la caverna 2 quelle dove sono andata e lì ci spawner zombie perchè praticamente quando non registravo perchè a me le cose più belle capitano solo quando non registro ovviamente cioè cioè no logico no ehm insomma detto poche parole c'erano spawner di zombie entro tranquillamente bra 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 raccolgo la mossi cobblestone ma arriva un creeper da dietro già avevo paura di morire indietreggio io lui esplode comunque mi distrugge lo spawner uff 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 ma io non pensarci eeeh tra l'altro nella puntata che avrei dovuto caricare c'era forse la dodicesima che purtroppo avevo messo dove esserci ehm avevo iniziato a fare questo dette poche parole che praticamente sarà la nostra stanza della riparazione ecco qua la envil comunque ehm è notte eccolo la che lo dicevo io sembrava troppo strano che eccoti qua bello vediamo subito qualcosa perchè va bene va bene va bene va bene invece ho all off cioè peggio di così lo posso mettere no dai lo voglio tenere suono giusto per una puntata non chiedo tanto e tanto per cambiare non ho azionato il timer quindi non so di quanto farò questa puntata ma tenterò diciamo di indovinare questi 20 secondi allora ecco come l'avevo iniziato e purtroppo non e purtroppo cioè come l'avevo iniziato appunto allora qua c'è la stone ovviamente qua ci sono le iron bars anche se qua vorrei mettere altri due pezzi di stone perchè così come vedete non si uniscono cioè volano qua non devo porti ferro per accedere ma appunto le cose di stone serviranno pure per mettere dei bottoni perchè non li si inghiozzo proprio ora e invece la cosa il pavimento lo farò in fornaci so che non ha senso però mi piacciono quindi allora quello che facciamo ora oltre a cercare di evitare questo maledetto lag e allora prima di tutto dovrei avere un po' di stone qua da parte eccola qui raccolta grazie a questo poi il tratto se vi chiedete per questi l'ho ottenuto uccidendo uno scheletro ho molta fortuna con i drop in effetti allora comunque mi servivano altri due per fare due bottoni quindi così esattamente poi allora dicevamo che mi serviva tanta cobblestone che non ho ovviamente che non ho ok la devo andare a raccogliere vabbè intanto mettiamo questi due pezzi di stone perchè sinceramente le cose le così diciamo leee non ricordo il nome non ricordo il nome vabbè veramente ecco ecco insomma le iron bars no le pressur plate non mi piacciono sinceramente per aprire i cosi oddio così abbiamo raccolto tutti e due immagino si quindi mi serve dei due parole mi serve cobblestone quindi andiamo a raccogliere e mentre oddio 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 non laggare ti prego voglio fare un episodio con il volume l'unico vi giuro vi giuro ma poi torneremo al buon vecchio che quanto sei odioso poi torneremo al buon vecchio minecraft senza volume tra l'altro ho messo pure quella applicazione quella cosa che praticamente su su optifine che puoi mettere i blocchi così insomma cioè ah avete capito mi sa che ho messo il smooth lighting si però sinceramente è molto bello è molto più bello così minecraft che figo erano un po' che non lo mettevo più allora prendiamo un po' di cobblestone poi vediamo di cosa possiamo parlare intanto perchè visto che registro con OBS io non posso mettere in pausa cioè in teoria potrei ma non posso perchè altrimenti non non avrei dovuto sarebbe stato meglio registrare col solito programmino merdoso che ho trovato in questo punto diciamo che aia mi sarebbero imparato i picconi questo ma attenti che l'ultima volta mi era capitato un creeper dietro il culo nel culo o come si dice eh esatto di cosa parliamo vediamo vediamo ricordate il canale cosa voglio fare in futuro di serie e robe del genere intanto vi dico questa questa qua la serie su minecraft sarà quella lì che credo ci sarà per sempre diciamo sarà c'è pensate assurre con minecraft vita più o meno è la stessa cosa solo che lui è bravo a fare video ma quella è la differenza eh ed è anche un computer che non gli fa laggare ogni due secondi ma quelli sono dettagli e che dire che dire non mi bastano ci scommetto eh allora dicevo oltre a questo qua a minecraft allora come sapete ho eccoli qua facciamo 8 mh dicevo eh oltre a qua abbiamo altri serie all'attivo quali no non così quali eh po' conto war defense che purtroppo va rilento perchè sinceramente ehm io col gioco ci ho giocato tante tantissime volte dopo un po' diciamo che mi stanco anche se ho giocato molto di più minecraft sei chiaro però ma oddio vero minecraft grazie ad update grazie a tutte quelle cose così diciamo che un pochettino ti tiene in come possiamo dire eh ti voglio giocare anche se è 30 anni che ti giochi e poi comunque puoi sempre fare cose nuove ah e quindi dicendo questo una serie che vorrei iniziare sarà su un gioco della ps 1 della playstation o 1 2 non lo so comunque se è un gioco della playstation il problema che ho già provato con spy perchè è un gioco della playstation 1 ma l'acca da procura molto più di minecraft io pensavo che mancraft fosse il gioco più reposistente ho capito che è solamente un piccolo tra i titani del lag ok 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 non chiedetemi perchè mi piace mi piace e andiamo in quella tra cobblestone non laggare sta laggando non laggare sta laggando non laggare non laggare corri corri ok ok dicevo ok quindi quella poi vediamo cos'altro è avvilmente però purtroppo non credo ce la farò poi vediamo se è attivo abbiamo allora poi quanto vuole difesa che avevo già detto che va un po' rilento perchè non ho voglia proprio di giocarci c'è uno scheletra ho sentito eccolo aia 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 sali sali oia che volo vieni qua dai aia muori fancula eh dicevamo no no oddio m'ha visto allora lui versaglierà qui eccolo vai vai sotto un po' di cobblestone almeno oddio che un altro e raga pure quindi figuriamoci che bella cosa ok non farò più episodi con il volume abbiamo capito eh dicevamo 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 perchè succede sempre qualcosa per cui aia ecco perfetto questo è una cosa dove si rige ok raccogliamo questo ferro allora dicevamo 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 aia porca boia eh che allora abbiamo poi poche eh poche che ho detto 30 volte poi abbiamo eh pokemon online che ogni tanto c'è in realtà per ora voi avete visto solo gli episodi oggi ho registrato un secondo e vabbè perchè diciamo che è difficile registrare degli episodi che comunque bene o male divertano devi avere fortuna soprattutto con l'obs perchè come vi ho già detto non puoi tagliare ah perchè altrimenti non vale la pena infatti penso che poi con online non registro alla vecchia maniera aia perchè ma comunque cioè per registrare per scusate caricare un video di minecraft ci metto tipo eh un'oretta si un'oretta sicuramente invece per caricare un eh video che è un video di minecraft con obs un'oretta un video ehm un video di minecraft invece con non obs ma il vecchio programma ci mettevo sette ore a volte veramente è una cosa spaventosa molto bene non basta ancora ma non importa cioè la fine di questo episodio sarà di raccogli cobblestone fai fornaci e vieni qua ma non importa non importa sicuramente quattro me ne mancano uno due tre quattro cinque sei sette otto dodici quindici sedici sedici sono tipo altri due stack di cobblestone che è arrivato a raccogliere allora dicevamo dicevamo cosa dicevamo io non lo so non lo ricordo più e vabbè insomma io ho detto in poco però ragazzi vorrei fare tanti tanti ehm così tanti gameplay vorrei cambiare perchè sinceramente dopo un po' mi stanco però a me giocare a minecraft cioè no a me piace minecraft ma perdo proprio l'idea liceo del marco così che sinceramente penso che ciro ok siamo in hard ma io ci provo comunque aia laca 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 ah perfetto cioè ok ok torniamo lì prima che oh cacchio notte corri dato non mi dovrebbe attaccare in due rio ehm ecco io vorrei fare tante serie ragazzi vorrei cambiare vorrei fare addirittura video sulle ftb ma non posso perchè fa la caffettiera perchè fa la caffettiera perchè fa la caffettiera e vado a uscire cose oh qua c'è la spagna diamante quasi quasi si la utilizzo aia io laca laca non ci capisco niente mori mori si e lui è morto ok lenda ma non lo uccido piuttosto fammi prendere le cose anche le frecce anche le frecce e torniamo su velocemente oh cacchio non di me che ha già spawnato qualcuno e mi sa proprio di si via ok spagna diamante che ho fatto nella scorsa puntata ma che enchanterò cacchio io avevo 20 livelli 26 26 livelli sono un coglione sono un coglione c'è un po' c'è un po' ma non importa ehm dicevamo ecco esatto io vorrei fare tipo una serie su no così devo fare ecco una serie sulla ftp perchè mi piace tanto e anche tante idee su cosa fare io ho perso no mi sa che sono proprio distrutti molto più facile dov'è ok allora andiamo a accogliere due stacche di pietra io dovrei illuminarlo con la cabella ma ogni volta non ho voglia aspetta però io torce e piuttosto io c'ho anche dei cani che in teoria mi dovevano seguire ma boh dove sono andati non lo so proprio cosa dicevo non ho ricordo perchè spondono così velocemente oh che vai oh che vai fossi la caffettiera è stata terminata mamma mia quanto mi dà fastidio quel rumore è anche sinonimo di lag dicevamo dicevamo eh perchè comunque io sono ftb anzi per la precisione ho provato a fare un video ma purtroppo c'è già mi lagga un casino su se gioco io da per me immaginate se se registro pure per non laggare devo praticamente mettere a full screen a full screen è solamente quella ftb aperta quindi registrare proprio non non posso non posso proprio ok la mia ha finito il piccone ma ho giusto io torce ho torce quindi ahia quindi ahia mettiamole prima che sponi qualcuno di tanto cattivo che ci fa e ci ha dei male io vi so sponare qua quindi mettiamo la torcia mettiamo la torcia qua qua dietro beh no qua c'è la luce magari mettiamo aia di qua perchè non ho messo due ah perchè la h forse ho già sentito uno zombie quindi andiamoci devo prendere tre pezzi per fare un altro piccone ok magari incanto pure va tanto per no vedi qua da papà ok ok scusate veramente per perchè sto facendo e sono tipo tre episodi che faccio sempre così non faccio niente è sponato pure l'enterman già ma tanto appena toccherà l'acqua è stato ecco cosa che ha toccato dove sono no dove sono i miei lupi no ma porca voglia cos'è andato in nether andiamoci a spara oddio mi immagino il lag eccoli infatti no no ah è vero la mucca che non ricordo nemmeno in che piso c'è andato allora voi venite con me non dovete stare qui allora questo io ti asparterò idem lui eh no lui no devo avvicinarlo dai lupo seguimi lupi lupi vieni qua porca voglia dai su vieni con me eh perfetto eh dio ecco bravissimo tu vai lì vai lì no vieni con me dimmi che ma seguido ti prego oh oh god ok non mi ha seguito oh vabbè ci penso dopo camera ok prendiamoci tre pezzi di un sacco di roba di pezzi ferro mentre ce l'abbiamo ferro dove sono gli stico semplicemente le ammio sì lì ci sono detto ce l'ho viste ma non lo voglio di prenderle sono sfaticato stick ah poi ce l'avevo ma lasciamo perdere allora stick iron pickaxe andiamo a raccogliere roccia cobblestone che cos'è che cos'è che cos'è che cos'è oh figo ah c'è un accesso secondario segreto qua lo so che sto per che stavo per cadere ma non importa no in tratto ragazzi vorrei iniziare a breve una miniserietta diciamo su minecraft o su una custom map il problema è che ci ho già provato tante volte tante beh tantissime no tipo 4 o 5 volte l'ho provato il problema è che tutte quante erano mappe che erano incomplete o sbagliate insomma che spunavi in un punto che cacchio ah c'è acqua oh questo scende ah nella caverna ehm praticamente tipo o spunavi in un posto che non era giusto o che cacchio ok o spunavi nel posto che non era giusto o magari eh c'erano ancora gli strumenti o robe del genere ma comunque erano tutti quanti costume map perchè non andava bene una era anche abbastanza carina e avevo provato a registrare il problema è che la prima volta che ho registrato cioè ho registrato il problema è che tipo non avevo non avevo sbagliato una cosetta praticamente avevo utilizzato un sacco di cheat per cioè un cheat insomma mi ero messo in maduro ogni volta per capire i meccanismi insomma ho avuto un video del cacchio e quindi non l'ho messo comunque direi che abbiamo finito no ancora no quasi ok giusti giusti quindi meglio prenderne qualcuno in più e niente insomma quindi sto cercando una costume map carina da fare che non sia così ok però anche negli ultimi tempi sto trovando tutte quante un po' scausette molto scausette scausette non scusi un po' la basta devo smettere di parlare tanto ce la faccio ok sperando di aver contato bene dovrei aver finito oddio di qua non so da quanto sto registrando anzi vediamo se tanto te lo dovrebbe dire in teoria a 22 minuti e 33 secondi e ovviamente va a aumentare vabbè facciamo un video tipo di 30 minuti perchè da quando lo vi esso voglio fare video per lungo assolutamente però ragazzi perchè seriamente video di 30 minuti mi ci voleva seriamente 7 ore sempre sempre io non ce la facevo più praticamente mi toccava tipo svegliarmi alle 6 alle 6 di mattina intanto metto la caricare così io tipo mi sveglio intorno alle 10 quella ora è già mezzo carico tipo ma comunque dovevo aspettare e ciò diciamo che non era proprio cosa vuoi skype dopo ti fall update ora no un povero cane è rimasto assuro ok fornaci poi ovviamente l'abelirò perchè solamente così è un po' bruttina e perchè in un punto non ha capito la nostra stanza di della riparazione si lo so che ragazzi ma ve l'ho detto è proprio una cosa un obiettivo possiamo dire proprio una sfida personale volevo fare un episodio eh insomma un episodio con il volume con i suoni per una volta tanto perchè uno che fa video deve maledizione avere un caspita di caspita di suoni allora facciamo due fornaci perchè le voglio mettere sotto a le porte e poi abbiamo veramente finito poi vederò come mettere tipo lavro leggere no non con questo non spieghiamola molto bene ah vero potrei fare no e beh possiamo fare una cosa del genere per fare una cosa no però dopo non mi si apre quei bottoni oppure si vediamo no però mi sembrava un'altra parte no no ok mettiamola in comando prima oh cacchio vero vabbè comunque le fornaci le abbiamo in casi ok ti detesto avrai notizie dal mio avvocato ti denuncio magari metterò qualcosetta di lava poi ovviamente dovrò fare una sottospecie almeno di tetto e che altro dire anvil non c'è il centro non c'è il centro vabbè c'è il centro però ho fatto io eccolo questo qua al quadrato e questo qua praticamente al centro io per ora la metto mi piace a destra o a sinistra destra oddio chi è? ah ok e niente scendiamo poi vedrò farò qualcosina con la lava qua su penso che metterò tipo eh i le cose le scale di stone brick stone brick e poi il tetto vedo come farlo ma non ho che abbiate molte idee vediamo quanto sto registrando 26 minuti e oh scusate direi ragazzi che per questa puntata è tutto ah vediamo se hm vediamo quante quanti drop ha raccolto i nostri mob spawner vedi qua ehi no esatto questo qua ogni tanto un mese fa ma non ho capito perchè vabbè archiamiamolo questa volta arriva ok e ovviamente questa qua sarà la nostra chest dee drop raccolto un po' di cose vedete vedete così raccogliamo gunpowder semmai ci dovrebbe servire quella cosa che piace tanto a noi e così un po' di carbone perchè lì è finito beh cioè basta però comunque andando ce lo mettiamo ok e cosa facciamo ora cosa facciamo ah si riproviamo tanto per finire il video a portare quel maledetto can cane conere l'oro il problema è che non so seriamente se posso portare lì oddio dov'è? è uscito non so si no vieni qua vieni qua vieni qua mi dovrebbe seguire in teoria ok ok dai vieni qua ti testo dai ti prego vieni qua vieni qua ah la mucca ah vedo lei dai lei è grossa si fa su vattene eccola vedi lei che ha fatto vieni qua stupido stupido cane come giustino quello dei cosi chiama leone cane pifone mi pare dai su ho addirittura spaccato due blocchi cioè cerchiamo di capire ti prego parliamone dai lupo dai su dai su entra poi chiudo cosi cin ecco ecco c'è ora hai capito perchè perché dai su dai vedi qua per prendere altri blocchi per chiudere vedi qua lupo 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 ? oh, cazzo dai, su, vieni qua spiega le storie di sporti oh, ma è l'unico cane che non segue il suo padrone e dove è andato, piuttosto? ma che oh tu mi stai prendendo un po' per il culo, eh, lo sa dai, su, vieni qua dai, su, oddio, no ok, ora non puoi uscire è già qualcosa ora, su oh, perfetto no, non è perfetto proprio per niente adesso te, così mi guarda, esatto però il problema è che non solo mi deve guardare ma si deve anche avvicinare ma ci fa apposta ok, abbiamo meno no, almeno ricaricato non ci, vincolo vieni qua tifo sette minuti senza quotarietà di prima per portare, questo, maldetto vieni qui non mi guardare, vieni qui no, i paesi verifichè ah, il mio inclinato non ti è giusto oh inclinato giusto inclinato giusto inclinato dritt inclinato dritt inclinato dritt mori dai, su ah mi hai fatto il male povero usolo dai ti prego perchè mi fai fare gli episodi di 35 minuti mi vuoi male mi vuoi tanto male spero di farti del male ma non ti prometto tu stai qua mi resterai per sempre nel nether non me ne frega tu resterai qui io ti detesto detesto te e tutta la tua famiglia spero che tu voglia qua dentro sotto un gas spero che tu carica maledizione non è il momento la bocca tu sei tornata tu sei tornata brava bocca brava bocca brava brava bocca ho poca presione bocchetta muori bocchetta e vabbè ragazzi basta fare non hai proprio i dati perchè se ne avete infibillazione così possiamo dire e niente ciao a tutti alla prossima vi ricordo di lasciare un like vi ricordo di no aspetta forse ce la faccio forse ce la faccio no daci provo ci voglio ok ci ho fatto quindi da jamming c'è tutto vi ringrazio per la visione ciao a tutti alla prossima non così così ciao a tutti